Cena di fine stagione qui al Risto Officina di Chieti Scalo in compagnia di Gabriele Marchesani, presidente della Teate Basket. I tifosi sono stati promotori, possiamo dire così, di questa cena di fine stagione, ma in realtà gettate già le basi per l'anno che verrà. Ma in effetti è vero, noi dobbiamo tanto alla nostra tifoseria perché durante la stagione è stata sempre molto presente e vicina la squadra. Quindi oggi è un ringraziamento per tutto quello che hanno fatto e per come ci hanno sostenuto. E come hai detto tu, è chiaro che è una cena di fine stagione, ma iniziamo già a buttare le basi per la prossima stagione. Anzi, devo dire che il nostro general manager Michele Paoletti ormai già è al lavoro dal giorno dopo la sconfitta di gara 4 a Salerno. E stiamo cercando di costruire veramente una squadra composta da giocatori di primissimo piano affinché questa Benedetta 2 possa tornare a Chieti perché, come ho detto sempre prima, è una città che merita questo tipo di palcoscenico. C'è il nodo sponsor? Il nodo sponsor c'è, ma io già ci ho lavorato durante queste settimane. A breve usciremo anche con il comunicato ufficiale. Non diamo nessuna anticipazione. Sarà uno sponsor molto importante e molto conosciuto nel mondo dello sport. Serie B sicuramente o c'è la possibilità di fare da subito l'A2? Non ti nascondo il fatto che da qualche giorno mi stanno chiamando per offrirmi vari titoli di A2. Però chiaramente la riflessione c'è, ma sarebbe bello anche conquistarla sul parquet, sul campo. Mai dire mai, chiaramente. Facciamo anche un bilancio perché al di là di come è finita è stata una grande stagione. Assolutamente. Devo dire, anno zero, abbiamo fatto tantissimo. Abbiamo sfiorato la finale. Purtroppo abbiamo perso a Salerno contro una squadra ben organizzata al completo. Magari noi ci siamo arrivati anche con un attimino di stanchezza, soprattutto per qualche giocatore cardine. E un mentale o fisico? Credo a entrambi, credo a entrambi. Quindi magari potevamo giocarcela diversamente, però comunque è stata una stagione, io valuto la stagione non soltanto dal punto di vista dei risultati, bensì a 360 gradi, dall'asset societario, dal pubblico, da tutto ciò che noi abbiamo fatto a livello strutturale sul palatricale, quindi tante cose che oggi comunque danno tanto lusso a questa società. Sei un uomo di sport, ti sei gettato nel basket anima e corpo. Vogliamo fare per questo un augurio all'amatore Pescara? Io già l'ho fatto di persona al presidente Di Fabio, tramite un messaggio. Chiaramente da buon sportivo abruzzese, logicamente faccio i miei migliori auguri, un grosso in bocca al lupo, affinché Pescara possa conquistare questa due, perché giustamente adesso se la stanno meritando.